All'Atletic Center di Riano è festa nero-verde. Il Chieti continua la striscia positiva e vince la sua prima trasferta collezionando tra l'altro il terzo clean sheet. Il gol partita porta la firma di Gatto, bravo a sfruttare un pallone in area. Per mister Chianese un successo che si ripete visto che il tecnico vinse il suo primo match l'anno scorso alla guida del Chieti proprio qui a Riano. Come dire un segno del destino. Sulla panchina capitolina c'è a Genore Maurizzi che in molti ricorderanno la guida del Teramo in Serie C. La sua squadra è schierata secondo i canoni del 3-5-2. Chianese risponde con un 4-4-2. Rispetto al successo nel derby ne cambia tre dentro Vesi, Dianbo e Masavud. Capitan Spinelli in non perfette condizioni fisiche siede in tribuna. Fischia Jacopetti di Pistoia. Primo tempo avaro di emozioni le uniche per merito dei padroni di casa. Nel finale di frazione. 34esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. La fucilata di Proia è indirizzata nel set ma Serra è prodigioso. Passano tre minuti e ancora Roma City al tiro con Gelonese che sfiora il bersaglio grosso. Il Chieti non pervenuto. Ha rischiato poco ma non ha prodotto nulla. E così nella ripresa Chianese suona la carica. Subito dentro Barlafante e subito dopo Mancini, Mazzei e Gatto. Si passa al 4-3-3 e la pericolosità neroverde aumenta. Al sedicesimo ci prova dalla media distanza Masavud, Muraca e Attento. Cambi anche nel Roma City. Il Chieti comunque prende campo e al ventottesimo trova la zampata vincente. Azione insistita sulla destra. La sfera arriva tra i piedi di Gatto che infila di precisione. Esplode la gioia neroverde dei cento arrivati da Chieti. Il Roma City si riversa in avanti ma il Chieti si difende con ordine. L'unico pericolo è al quarantunesimo. Il subentrato di Renzo da pochi passi. Serra blocca sicuro. E dopo quattro minuti di recupero termina il match. Il Chieti dopo tre giornate è imbattuto con sette punti in classifica. Il Chieti dopo tre giornate è iniziata.